Lei cosa pensa anche di tutte queste proteste del centro-destra? Lei pensa che gli italiani stiano con chi dice appunto giù le mani dal Natale, come ha detto anche Salvini recentemente, oppure con un Presidente del Consiglio che sembra voler tutelare innanzitutto la salute anche per evitare che vada tutto a catafascio? Io penso che gli italiani si occuperanno molto delle loro famiglie, credo che gli italiani abbiano un grande senso della famiglia e meno senso della comunità, per cui ognuno si occuperà di quello che conviene al proprio nucleo familiare sperando di non fare troppi guai durante le festività natalizie. D'altra parte il Natale ce lo rubano praticamente tutti gli anni, cioè l'anno scorso ce l'aveva rubato la comunità musulmana se non sbaglio, quest'anno ce lo ruba il Governo, ormai ci rubano il Natale è un po' come le luminarie di Corso Buenos Aires, cioè i primi di dicembre si sveglia Morisi e dice ci rubano il Natale e comincia questa aria natalizia che poi sentiamo tutti i giorni. Morisi è quello che guida la comunicazione della Lega, quindi lei dice che tanto ogni anno si trova un nemico nuovo in lista del Natale. Ma sì, tutti gli anni ce lo rubano. Non è che... Professore,